benvenuti al meteo di tele nuova queste le previsioni del tempo per domani mercoledì 20 gennaio molte nubi sulle regioni tirreniche dalla liguria alla sicilia con piovaschi sparsi nevicate sopra i 400 600 metri ma con quote in rialzo dalla sera in nottata piogge diffuse invece sul lazio in campania la perturbazione si avvicina con tendenza a portare piogge serali e freddo pungente le temperature però dal giorno successivo saranno in lieve aumento venti anche sostenuti da nord nord ovest con mare molto mosso grazie a tutti